Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più L'ha preso la Lilli ad Asiago. Che cosa c'è nel piatto? Lilli cosa c'è? È carne secca! Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più Da noi si usa tantissimo a carne secca! Ciao mamma Giulia! Ciao!